Parla tifoso dell'Azzura. Cerchiamo sempre di fornirti le notizie più interessanti sul nostro club. Prima di entrare in questo entusiasmante aggiornamento, posso chiederti di dimostrare il tuo amore per il Napoli mettendo mi piace a questo video e iscrivendoti per ricevere tutte le ultime notizie. Oggi affrontiamo un argomento che lascia con gli occhi spalancati i tifosi del Napoli. Il nostro caro Piotr Zilinski è nel mirino della Juventus, secondo quanto riferito da Radio Marte. Sembra che il DS della Juve Giuntoli abbia contattato l'agente di Zilinski Bartolomej Bolek. Il motivo è che Zilinski è attualmente sotto contratto con noi fino a giugno 2024 e la Juventus è interessata a rinforzare il proprio centrocampo. Dalle nostre informazioni però emerge che il giocatore non vuole andare alla Juventus e ha il sogno di chiudere là. Carriera con la maglia azzurra del Napoli. Sembra che il polacco non voglia nemmeno prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi alla Juventus e sia concentrato sul rinnovare il contratto con noi, restando con noi a lungo termine. Ci sono già state le trattative per il nuovo contratto con il board italiano, ma alcuni dettagli devono ancora essere risolti, compresa la... Questione relativa alle provvigioni degli agenti. Questa è una notizia che sicuramente scalda il cuore di noi tifosi del Napoli. Zilinski è una parte preziosa della nostra squadra ed è emozionante vedere che vuole restare con noi. Ora voglio sentire la tua opinione, fan. Cosa ne pensa della permanenza di Zilinski al Napoli e del rifiuto dell'offerta della Juventus? Condividi le tue opinioni nei commenti qui sotto. E, naturalmente, non dimenticare di mettere mi piace per mostrare il tuo supporto e di iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento. Continuiamo a sostenere insieme il Napoli. Forza Napoli sempre!